Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, finalmente riesco a girare qualcosa di decente dopo un anno praticamente vi volevo fare vedere, cioè volevo approfittarne dal mio rientro di Miniature Italia a farvi vedere tutti i miei acquisti, swap, regali insomma mi avete inondato di cose, io non lo so veramente, ero sconvolta, sconvolta per l'affetto veramente che date a noi e per questo veramente vi ringrazio con tutto il cuore, veramente, a volte io dico ma perché mi portano questi regali, ma gente che non conosco e mi stupisco davvero, è bellissimo detto questo vi volevo presentare l'ospite speciale di questo video che è lei, sua maestà, sua maestà, la regina Elisabetta, guardate quanto è bella, cioè veramente è spettacolare guardate che scarpe, chissà se c'è il buco sotto, no non c'è il buco sotto, non c'è le scarpe nuove per l'occasione come sta sua maestà, tutto a posto? Beh sì, direi di sì, questo è il regalino che mi ha fatto la mia nerina cioè io e lei, dovete sapere che siamo delle fan accanite di sua maestà, la regina Elisabetta II cioè proprio io la amo, la venero, è la mia passione insomma e quindi non poteva mancare lei nella mia collezione di fanco, guardate in tutto il suo splendore, bene 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 vabbè, volevo iniziare con lei e poi che dire, iniziamo con gli acquisti, gli acquisti, gli acquisti c'era di tutto e di più e avrei dovuto avere tipo il portafoglio di, che ne so, della Ferragni per poter permettermi tutto quello che volevo, ma non era così e quindi mi sono diciamo limitata iniziamo con le bimbi, che dire, ho detto vabbè c'è Elisa, approfittiamone solo che già che sei col treno, già che sei con la valigia, non è che si poteva esagerare quindi vabbè ho preso le paste, ne approfitto per farvi vedere i nuovi colori cernite che amo poi sono morbidissimi e per chi ha le mani fredde, cadaveriche come le mie, sono veramente il top e questi due colori di fimo ho preso, questo mi piace tantissimo di solito me lo faccio io col viola e rosso, però vabbè questa volta ho voluto provare il premo, il premo bianco perlato che mi piace sempre usare in tutte le creazioni che faccio praticamente e questi due colori premo, il premo non lo uso molto in verità, però d'inverno essendo che è molto più morbido del fimo eccetera eccetera mi fa piacere usarlo, poi aggiungo il translucent e così mi rende tutto più elastico anche perché il translucent io dovete sapere lo metto ovunque perché è inutile cottura, non cottura quando fai le cose fini e molto delicate come le mie, con i capelli tutti sono delicate e per avere un, anche se le cuoci bene, per avere un effetto totalmente indistruttibile ci vuole il translucent, almeno per la mia esperienza è così poi infine ho comprato questo come pasta diciamo di solito uso il pro scat, mi trovo benissimo ma sto usando anche questo, non mi trovo male mi piace quell'effetto rosino un po' traslucido che dà questa pasta sempre su Elisa, dai Elisa ho comprato questo, il liquid gold che adoro è una specie di colore oro, cioè è oro, è totalmente oro e di solito io uso il rich gold che è molto più chiaro continuando con gli acquisti ho preso delle miniature ho preso queste lampade qui per, aspettiamo, mettiamo a fuoco ecco qui, queste lampade in miniatura per addobbare qualche mobiletto sapere chi mi segue sa che sto facendo i mobiletti in miniatura che tra l'altro quelli che ho fatto a Miniatura Italia sono andati tutti via sono contentissima di questo e ho intenzione di farne degli altri da mettere su Elisa ho comprato questa, non so cosa ci farò ma mi piaceva da morire non lo so, ragazzi io mi faccio prendere dalla... oh che carino, che bello, lo voglio, basta queste qui, sempre da mettere in qualche miniatura questa piantina e questo cestino di frutta poi ho preso queste basette cioè queste stanghette più che basette sono stupende questo qui cos'è? ho dato per regalo alla signora è un cestino tipo un nido con la rondine scusate la luce ragazzi c'è una luce veramente terrificante poi ho preso questa credenzina questo mobiletto che voglio fare in stile shabby chic con dentro dei dolci, vedremo se mi riesce e poi ho preso sempre per miniature ho preso questo set di miniature di ceramiche guardate quanto sono carine poi costava pochissimo non ne ho approfittato e non mi chiedete dove, in che negozi, come si chiamavano perché non me lo ricorderò mai e poi mai delle basi per fare le sculture di queste ci farò gli stampi così me le potrò riprodurre anche in resina e poi e poi e poi e poi cominciamo con le creazioni con le creazioni, le creazioni intanto vi faccio vedere quelle che ho preso eccolo guardate quanto è bello oddio, metti a fuoco guardate quanto è bello questo qui è di Petit Cocoli Katia Vendola vi faccio vedere tutto guardate quanto è bello la finitura è veramente stupendo questo amorino vabbè poi io adoro Katia la seguo da quando ho iniziato a creare il film è stata la prima che ho conosciuto lei e Domenico e avere le loro creazioni a casa mi riempie di immenso piacere e appunto per quanto riguarda Domenico poi ho scelto questo oddio quanto sei buono guardate quanto è buono di Nobu e Pispuki no vabbè cioè io questo robottino lo amo con l'antennina qui ma cosa sei? cosa sei? poi si sono presentati con due regalini cioè vabbè io sono morta dovete capire che una sera ci siamo trovati in appartamento e abbiamo cominciato a tirare fuori tutti tutte le cose che avevamo in valigie ci siamo fatti gli swap tra tutti è stato bellissimo è stato come tornare bambini sembrava Natale era bellissimo io allora Katia mi ha regalato questo dai metti a fuoco eccolo guardate ha fatto una collezione di costellazioni e vabbè ciao guarda quanto è carino cioè è perfetto i colori i pigmenti tutto perfetto brava Katia brava e poi Domenico Nobu ha detto questa sei tu guardate come buona sta dopo strega io la amo cioè vabbè ciao in effetti si sono io nei momenti nei momenti buoni guardate guardate quanto è carina ciao vabbè scusate le mani ragazzi ma io ho cominciato già a ricreare perché tra 20 giorni c'è Cartomics non dimentichiamocelo va bene continuiamo con gli swappini ecco la la riconoscete la fantastica stupenda meravigliosa nera neve eccola qui vabbè guardate quanto è carina noi ritroviamo dalla scatola così ve la faccio vedere per bene eccola qui quanto è bella guardate quanto è carina poi passiamo avanti vediamo qui che ci sarà eccola angiolina infinito di Daphne ecco il suo bigliettino che è l'unico che ho trovato cioè ho preso 20 miliardi di bigliettini non li trovo più guardate quanto è carina con le ali sciffon vabbè cioè è veramente spettacolare sbrilluccica tutto il cammino trasparente fa sognare è un sogno dopodiché ultima ma non per importanza la riconoscete eh dai metti a fuoco ma sì che la riconoscete è la mitica danielona nazionale daniela pupa guardate quanto è carino cioè ma io lo amo è bellissimo che stupendo questo topolino cioè me ne sono innamorata subito vabbè è troppo carino questi sono tutti gli swappini che ci siamo fatti tra di noi veramente sono contenta poi ho fatto un altro swap anzi altri swap non è finita qui guardate tadaaaan guardate che meraviglia cioè ragazzi io non ho parole mi sono innamorata mi sono innamorata subito di questa volpe di Patrizia Anselmetti è veramente stupendo aveva delle roba fantastica e insomma ho visto che lei puntava il mio coniglietto con la fatina io puntavo questo e lei mi ha detto se vuoi scambiamo io cosa fantastico cioè vabbè ero troppo felice e quindi abbiamo swappato guardate com'è è perfetto cioè non so che dire non so che dire non so come faccia voglio dire io non sono per niente brava a fare gli animali anzi quest'anno ho fatto il cervo ho fatto il coniglio e mi sono un po' buttata però è veramente difficile brava brava Patrizia e poi poi e poi vabbè non so come introdurre questa cosa ma guardate guardate qui che spettacolo questo è di Claudia Raddi me l'ha voluto regalare abbiamo fatto diciamo che a fatica gli ho dato quello che non si meritava ma che almeno poteva non lo so non lo so come si fa a fare uno swap con Claudia Raddi non si può cioè tieni tutto il banco e invece per lei andava bene anche una cosina ma guardate com'è cioè è impossibile è stata veramente carinissima è veramente una persona fantastica e poi mi fa schiantare dalle risate era mia amicina di banco guardate quanto è bella cioè andate a vedere le sue cose su Instagram su Facebook perché è veramente spaziale dopo di che mi avete mi avete portato dei regalini cioè innanzitutto vorrei veramente ringraziarvi ringraziarvi per l'affetto c'è gente che mi portava regali dolci cibo gente che non conoscevo che non ho mai visto che magari non mi hanno nemmeno mai commentato però per vergogna non lo so c'è nel senso sappiatelo io sono una fanfarona e quindi potete assolutamente venire e dirmi qualsiasi cosa non abbiate paura assolutamente questa ragazza dolcissima ci ha portato ci ha fatto pescare dalla sua borsa delle meraviglie ci ha fatto pescare dalla borsa delle meraviglie un sacchettino con delle caramelle e questa dolcissima gorgeous e poi guardate quanto è bella lei aveva partecipato anni fa ad un contest nella mia pagina che riguardava tipo dovevate fare dei disegni o delle sculturine o modellare qualcosa che riguardasse i miei lavori e lei aveva fatto questa tazza che io adoravo ed è stata così carina questa edizione di miniature d'italia che me l'ha portata e sono rimasta veramente 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 felice lei e vediamo se riusciamo a leggerlo perché non aveva il bigliettino fatto a mano Alice fatto a mano Alice c'è scritto purtroppo Alice ho perso il sacchettino dove avevi scritto il nome della tua pagina quindi se vedi questo video e lo vuoi scrivere ci farebbe tanto piacere perché noi vogliamo vedere i tuoi lavori guarda quanto è bella è veramente stupenda inoltre vabbè chi non ama le tazze io adoro le tazze poi mi avete portato questo libro avevo scritto un post dove cercavo questi libri e niente nel senso me l'avete portato non so che dire veramente veramente non so che dire sono rimasta sconvolta oltre che grazie Claudia non posso dirti altro veramente grazie 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 e poi sempre questa ragazza dolcissima mi ha portato questo viaggio al centro della terra di Verne e niente grazie veramente io adoro leggere adoro questo genere e adoro i libri e lo sa benissimo perché siamo in un gruppo di lettura su facebook e ci teneva a farmi avere diciamo i suoi libri preferiti ho fatto lo swap anche con altre persone però non sto trovando le scatoline veramente mi dispiace un casino e magari metterò le foto su facebook o su instagram una volta che riuscirò a trovare tutto quello che mi sono portata a casa e niente volevo dirvi ancora grazie per essere passati questa è stata la mia prima miniatura italia e mi sono divertita veramente un casino con i miei amici creativi con con le persone che sono passate con i creativi che ho conosciuto in fiera ovviamente non sempre si ha il tempo di fare due chiacchiere con tutti però è stato veramente carino carino e lo voglio rifare assolutamente perché mi sono divertita troppo oltre al fatto di aver venduto o no cioè nel senso quello sai abituata a fiere come lucca comics come cartomics dove c'è sempre un via vai casino di gente che devi stare sempre lì sul banco non hai 5 minuti per parlare con questo e con quello andare a una fiera come miniatura italia dove hai il tempo comunque di approfondire alcune alcune cose con altre persone conoscere le persone che mi vengono a trovare e stare anche 10-15-20 minuti prendere un caffè è veramente una cosa meravigliosa veramente quindi ci tengo tantissimo a farlo anche per questo spero che questo video vi sia piaciuto e andate a seguire tutti gli artisti se non li conoscete metterò più o meno i link di tutto e di tutti qui sotto nell'info box e a presto con un nuovo video spero presto ciao